carissimi pace buona giornata dio vi benedica oggi è 14 ottobre leggiamo insieme nel libro dei salmi in particolare ci soffermeremo sul salmo 149 il verso 5 e il verso 6 saranno l'oggetto della nostra meditazione è scritto esultino i fedeli nella gloria cantino di gioia sui loro letti abbiano in bocca le lodi di dio e una spada a due tagli in mano in generale il salmo 149 un salmo dove ritroviamo diverse espressioni di lode la parola alleluia l'invita a cantare all'allegrarsi ad esultare a lodare a salmeggiare a gioire sono espressioni presenti stavo dicendo che dovrebbero a diri vero essere sempre presenti nella vita dei credenti e nell'assemblea dei credenti è triste infatti vedere una comunità dove prevalgono i silenzi i mugugni i lamenti o espressioni abitudinarie dette senza che ci sia il cuore quindi espresse soltanto per abitudine dall'altra parte naturalmente non dobbiamo cadere nell'estremo opposto cioè quello di essere rumorosi e creare confusione esaltando in modo eccessivo l'emotività dobbiamo essere sobri quindi moderati equilibrati e dobbiamo quindi ascoltare l'invito del canto senza scadere in manifestazioni che poi alla fine creano più confusione che altro allora dio ci aiuti ad essere persone che hanno nella loro bocca le lodi di dio e che hanno nella loro mano una spada a due tagli le lodi di dio dio deve essere lodato per tutto quello che è innanzitutto perché dio è amore e dio ha dato suo figlio per la nostra salvezza e ci ha dato ciò che era necessario affinché noi peccatori destinati giustamente all'inferno potessimo essere salvati e potessimo avere una prospettiva eterna quella di vivere col signore nella gerusalemme celeste è degno di essere lodato non solo per quello che è ma anche per quello che fa perché oltre a darci la salvezza egli ogni giorno provvede ai nostri bisogni ogni giorno si prende cura della nostra vita agisce delle volte senza che neanche noi glielo chiediamo semplicemente per l'amore paterno che lui ha verso di noi risponde alle nostre richieste alcune volte in modo affermativo altre volte in forma negativa ma in ogni caso sempre per il nostro bene egli è colui che ogni giorno ci fa grazie di essere al nostro fianco e la sua presenza paga il nostro cuore dobbiamo lodare anche perché egli è creatore del cielo e la terra e l'onnipotente ed è giusto lodarlo e celebrarlo quanti grazie quante lodi si tessono in favore di uomini di questa terra che fanno del bene ed è giusto è giusto ringraziare chi ci ha fatto del bene giusto o parlare bene di coloro che fanno il bene si impegnano per il bene del proprio prossimo quanto più dio deve essere ringraziato quanto più il signore deve essere lodato celebrato ed innalzato e dice aiuti ad essere un popolo che sa lodare in nome di dio dice aiuti ad essere un popolo che ha una spada a due tagli in mano e non dimentichiamo mai che questa spada a due tagli come dice la scrittura e la sua santa e benedetta parola una parola che deve essere ancora oggi conosciuta quindi letta e meditata che deve essere ancora oggi ascoltata nelle comunità dove si predica il nome del signore una parola che deve essere condivisa con quanti ancora non hanno conoscenza della grazia mediante la testimonianza personale la predicazione evangelistica che deve essere svolta da parte delle comunità cristiane perché questo è il mandato che il signore ha affidato alla chiesa andate per tutto il mondo predicate l'evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato e naturalmente questa gioia questa spada a due tagli sono qualcosa che ci devono accompagnare anche nella quotidianità dobbiamo aspettare di andare in chiesa per dire gloria al signore non dobbiamo aspettare di trovarci in una comunità di credenti per celebrare il nome del signore facciamolo anche nella quotidianità ogni qualvolta pensiamo al signore eleviamo a lui una lode un ringraziamento celebriamolo per tutto quello che fa e questo è il segreto della gioia cristiana che non è il frutto di circostanze positive non sono una conseguenza del fatto che tutto ci va bene no la gioia cristiana è una conseguenza della lode che sale dal proprio cuore e questo è uno dei motivi per cui l'inferno l'avversario cerca di zittire cerca di togliere dalla bocca ancora prima dal cuore questo sentimento di gioia questo sentimento di lode di riconoscenza verso dio perché sa che un cristiano che lode un cristiano felice un cristiano vittorioso e lui non è venuto per darci vita questo è cristo che è venuto a darci vita meglio è venuto invece per distruggere per uccidere per portarci verso la freddezza la tiepidezza il silenzio nella sua presenza affinché la benedizione di dio non scenda perciò cari dio ci aiuti a ricordare questi semplici consigli che troviamo in questo salmo e a metterli in pratica nella vita personale nella comunità che frequentiamo affinché la gloria di dio continua a manifestarsi e noi possiamo continuare ad avere una vita benedetta e vittoriosa la pace del signore sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme grazie a tutti